Sulla base dei primi quattro mesi, il bed and breakfast ti fa diciamo... 110.000 euro. Spese di gestione, pulizie, 41% sull'eccedenza, tasi, limo... Ma che veramente devo pagare tassi? Sono sempre pieni di turisti questi. Per noi non siete dei clienti. Che posso avere la fattura? No. Noi accettiamo solo donazioni. Un'idea geniale questa. Mi faccio pagare dai turisti con la donazione minima e senza tassi. Nel mio bed and breakfast potremmo allestire un piccolo altare. Potremmo pure fare una formula messa e colazione. Lo spirito a sinistra. Il santo a destra. Manco il segno della croce se fa. Ma io non c'ho bisogno di loro. Io me la invento una religione. Prendiamo un po' qua, un po' là, facciamo un mix. Di gusto magari, ma un mix. C'è un solo Dio. Uno e trino. Facciamo che Dio è quadruplo. Diamo subito un segnale forte. Tu sei il tuo Dio. Devo chiamarla maestro. Giro di sprizzi per tutti. Noi siamo nostro Dio. Avete avuto il monopoglio dei 2000 anni. Adesso tocca a lui. Ci dobbiamo concentrare per il prossimo obiettivo. Lotto per mille. Io nismo, eh? Cioè io da io e nismo da... Che ci porti altri due sprizzi per favore?